Ci sono atleti che hanno sofferto o anche adesso soffrono di disturbi alimentari? Sì, sì, sì. È purtroppo una problematica presente. Ciao ragazzi, ben ritrovati a un'altra puntata di Ruota Libera. Oggi qui con me c'è Laura Martinelli e parleremo di un argomento molto interessante, di nutrizione sportiva. Buongiorno Laura. Ciao, ciao Giada. Laura, tu sei laureata con l'Ode in dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Padova e successivamente ti sei specializzata in nutrizione sportiva in Inghilterra con un Master in Science ed Exercise Nutrition presso la Leeds Metropolitan University. Complimenti intanto. Grazie. Laura, com'è nata la passione per la nutrizione e poi nello specifico per la nutrizione sportiva? Mannaggia, già partiamo con una domanda a cui in realtà non so forse tanto rispondere nel senso che non c'è stato proprio un momento di innamoramento, di passione, di inizio di passione per la nutrizione. Io sono cresciuta in una famiglia. ...i miei nonni ancora prima, quindi appunto a casa si è sempre dato valore al cibo e al buon cibo, alla qualità del cibo stesso e anche ai momenti di convivialità legati al mangiare assieme. Poi io da sempre sono stata sportiva e quindi ho unito le due cose e devo dire che tu hai citato il Master all'estero. Lì è stata un po' un'avventura nel senso che in Italia non c'era e non c'è tuttora un percorso formativo pubblico in nutrizione sportiva. E quindi, tra l'altro era il primo anno di matrimonio, sì, ho detto vado proprio a studiare quello che mi piace. Era il 2009 e ancora non c'era tanta sensibilità, tanto interesse nei confronti della nutrizione sportiva. Quindi un po' al buio ho deciso insomma di affrontare questi due anni all'estero. E ho detto studio quello che mi piace e poi torno in Italia e vedo se riesco a farne un lavoro come poi è stato oppure no. Quindi ho seguito in realtà appunto proprio la passione più che magari diciamo gli interessi lavorativi ecco del momento. È stata una scelta un po' inusuale che poi alla fine però ha pagato. Sono stata fortunata, sì. È brava. E di fatto dal 2010 quindi da subito hai iniziato a lavorare con atleti di varie discipline, non solo ciclismo, preparandoli insomma ai grandi eventi, a grandi competizioni. Sei stata anche o sei docente dal 2013 presso la Scuola di Nutrizione e Integrazione dello Sport a Padova? Esatto, sì, che è un percorso privato esattamente in nutrizione sportiva. Sì. E dal 2014 dietista di importanti team professionisti. C'è iniziato la Yam, poi sei stata la Novo Nordisk, Bahrain e ora sei la nutrizionista della Jaico Alula, squadra World Tour. Sì, 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 sì. Poi appunto una volta messo un po' il piede in ambito ciclistico poi ci sono rimasta. Sì. E che ne dici di questo ambito? Ti piace soprattutto? Sì, beh io adoro il ciclismo e sia da un punto di vista proprio di diciamo di passione, mi piace proprio come sport, poi appunto anche qui a livello affettivo e insomma ho bellissimi ricordi del giro che passa sotto casa, non si andava neanche a scuola per andare a vedere il giro. Quindi insomma era un avvenimento importante e appunto ricordo mia nonna che guardava sempre le tappe e quindi insomma si condivideva anche questo. E sì, quindi è un po' così, ecco. E insomma era un po' già al tuo mondo, anche se non sei stata ciclista sei entrata un po' in un mondo che ti appartiene ecco. Poi devo dire da un punto di vista di nutrizione sportiva probabilmente il ciclismo in generale direi forse l'endurance, le discipline di endurance rappresentano un po' diciamo il contesto di applicazione in cui la nutrizione sportiva può, ha un valore maggiore. Certamente non fa differenza da sola, però magari rispetto a altri contesti sportivi nel ciclismo la nutrizione ha un peso maggiore. Ecco appunto, arriviamo qui. Oggigiorno la tua figura all'interno della squadra, di una squadra, adesso penso soprattutto alle World Tour, è una figura imprescindibile, non si può più fare a meno di una figura come la tua. Una figura che è entrata recentemente di prepotenza all'interno delle squadre. Qual è il tuo ruolo? Perché siete così importanti? Allora, il mio ruolo non è ben definito, nel senso mi spiego meglio. È un ruolo che essendo molto recente, come hai detto tu, perché appunto io iniziando 2013-2014 fa il conto eravamo penso in tre dietiste nel World Tour e tra l'altro gli altri due colleghi hanno preso altre strade, quindi io penso di essere la più vecchia, diciamo. Quindi dieci anni e niente, no? Sì. E appunto il ruolo del nutrizionista nel ciclismo è un ruolo che va interpretato perché non è un ruolo convenzionale, non è un ruolo predefinito, nel senso che ci sono i ruoli classici tradizionali, il meccanico, il massaggiatore, il direttore sportivo, si sa indicativamente quello che un meccanico fa, un massaggiatore fa. Poi certamente c'è comunque, diciamo, l'arte personale, però è all'interno di alcuni paletti, insomma, definiti, no? Mentre il lavoro del nutrizionista è molto più variabile, proprio perché non ha uno storico, non ha una tradizione. Quindi io posso descriverti come io l'ho interpretato, però conosco molti colleghi di altre squadre che magari per raggiungere lo stesso risultato lavorano in maniera diversa, quindi è appunto un ruolo versatile, diciamo, sicuramente. Quindi non è ben definito. Ognuno ha il suo modo quindi di fare, no? Quanti atleti segui? Allora, fino all'anno scorso ero da sola in squadra e c'erano 45 corridori tra uomini e donne. Invece sono felicissima dal prossimo anno, quindi dal 2024, dal momento che si è anche aggiunta comunque una Continental Donne e abbiamo una filiazione con Continental Uomini, sono 71 corridori. E appunto, giustamente, il general manager Brent Copeland mi ha detto, Laura, qui dobbiamo rinforzare il reparto e quindi abbiamo assunto tre nuovi nutrizionisti. Quindi siamo in quattro per 71 corridori. Sarà comunque tanto lavoro, ma insomma, almeno dividerete le fatiche. Sì, 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 il rapporto nutrizionista-corridori è sicuramente migliorato. Ascolta, Laura, come imposti il tuo lavoro? Cioè, prendi il programma gare dei corridori e dai delle tabelle settimanali? Hai un rapporto anche con gli allenatori, con i preparatori, con i direttori? Come imposti il tuo lavoro? Sì, è un lavoro di squadra, fortemente di squadra. Adesso forse uno dei problemi che non ci sono nel ciclismo moderno è quello di avere informazioni. Forse a volte ce ne sono anche troppe. Quindi, allora, a livello di informazioni e di dati, quelli non mancano, grazie ai misuratori di potenza, eccetera. Abbiamo il file di gara, il file di allenamento, dove c'è di tutto di più. E quindi quella è la parte un po' meno complessa, diciamo. Poi c'è, diciamo, appunto la struttura con cui io mi interfaccio. Principalmente io lavoro a stretto contatto col preparatore del corridore, il direttore sportivo e il medico di riferimento. In J. Qualula, adesso non so se sia così in tutte le squadre, appunto ogni corridore ha medico, coach, preparatore e direttore sportivo di riferimento. Quindi ha proprio quelle figure fisse, diciamo, che lo seguono per tutta la stagione. Quindi io nell'elaborare il programma nutrizionale specifico, mi confronto in primis col preparatore, soprattutto magari in questa fase invernale, in cui le gare sono ancora un po' distanti. E con il medico per quanto riguarda la supplementazione. Noi tra l'altro nel reparto di nutrizione abbiamo il medico referente, il dottor Beltemacchi, che fa un po' da tramite fra nutrizione e staff medico. Ok. E poi lo staff medico è coordinato dal dottor Guardascione. Quindi abbiamo proprio una struttura ben precisa, in modo da garantire un efficace flusso di comunicazione. Quindi si sa a chi chiedere cosa. Comunque per farti anche un esempio, per esempio nell'elaborare un programma nutrizionale, io appunto chiedo al coach la finalità di questo periodo di allenamento, se si vuole andare a lavorare sulla base, se si vuole perdere massa grassa, aumentare massa muscolare, recuperare dopo un blocco intenso di allenamento, quindi la macro finalità del periodo. E poi elaboro il programma nutrizionale, accedendo, noi abbiamo una piattaforma di allenamento, TrainingPix, in cui appunto i coach caricano giorno per giorno, i programmi di allenamento. Questo per quanto riguarda la parte nutrizionale, quindi proprio gli alimenti. In, diciamo, in sinergia, elaboro anche il piano di supplementazione in accordo col medico del corridore, che ha accesso agli esami del sangue e quindi assieme si elabora da un lato una pianificazione generale della supplementazione, quindi noi la chiamiamo periodizzazione. Quindi si sa che se tutto fila liscio, da qui a qui si prendono i probiotici, da qui a qui la beta-lanina, eccetera. Quindi hai una pianificazione di base. E poi di settimana in settimana si conferma o si modifica, sempre in accordo col medico. Di settimana in settimana. Quindi il tuo è un lavorone, anche tenendo conto di quanti atleti devi seguire. Cioè è un continuo confronto, appunto, con direttori, preparatori, medici, per preparare ogni singolo atleta che è diverso, perché sono tutti diversi i corridori. Assolutamente. Sì, sì, è un lavoro sartoriale. Sì, sì. Che viene imbastito e poi, appunto, via via confermato e ci si sente regolarmente anche con il corridore stesso. Ovviamente adesso non l'ho menzionato, ma è ovviamente coinvolto nel dare feedback, riscontri. Sì. Laura, parliamo anche un po' delle differenze tra oggi e il passato. Se penso a dieci anni fa, quando appunto, metti anche quindici, quando non c'erano figure come la tua all'interno di una squadra, si facevano tanti esperimenti. Una volta, no? Anzi, una volta era più meno mangio, meglio è. Si facevano le distanze, si tornava alle tre del pomeriggio, si mangiava l'insalatona e si aspettava la cena. Oppure si mangiava un po' di frutta secca, così tanto per tappare il buco e si attirava la cena, che era controproducente. Quanti danni abbiamo fatto in quell'epoca, in quei periodi? Purtroppo tanti, secondo me. E sicuramente, a mio modo di vedere, ci sono anche atleti che magari non hanno reso come potevano o hanno smesso troppo presto, perché non hanno valorizzato la loro fatica in bici attraverso la nutrizione e la supplementazione, sicuramente. Soprattutto, io penso anche nel contesto italiano, se pensiamo un po' alla vecchia scuola, che appunto tu hai citato in titolo d'esempio, purtroppo sì, sono stati fatti errori e quindi poi anche danni e alla fine ne hanno pagato sicuramente le conseguenze ai corridori. Perché a livello metabolico cosa succede, soprattutto se fai, che ne so, una distanza di sei ore e torni e non mangi? Allora, certamente, diciamo, probabilmente andrò a perdere peso, ma parte di quel peso è legato alla componente muscolare. Perdi massa, quindi? Perdo massa muscolare, perdo muscolo. Perché comunque vado a creare un deficit calorico, però eccessivo, a scapito proprio del muscolo. e spesso si innesca un po' un circolo vizioso, perché magari l'atleta si vede più asciutto, vede che il peso cala e persevera nella pratica, no? Nel mangiare poco in bici, mangiare poco quando torna, eh? Però in realtà sta rovinando la massa muscolare. e al calare della massa muscolare cala anche il consumo energetico. Quindi poi si trova a un certo punto in cui mangiando allo stesso modo prende peso, perché ha perso muscolo, quindi consuma sempre meno a livello proprio nelle 24 ore il suo metabolismo basale è sceso e poi veramente arriviamo a certe situazioni per cui per andare a perdere ulteriormente peso bisogna quasi smettere di mangiare. Esatto. Esatto. Adesso ti faccio una domanda delicata a proposito di come reagisce la testa a determinate abitudini anche sbagliate. Ci sono atleti che hanno sofferto o anche adesso soffrono di disturbi alimentari? Sì, sì, sì. È purtroppo una problematica presente. Ancora adesso, nonostante ci siano figure come la tua che insegna al corridore come mangiare, all'atleta come mangiare e a cosa serve l'alimentazione soprattutto? Purtroppo sì. Io adesso non riesco a fare un confronto perché ho iniziato appunto dieci anni fa ma proprio forse perché la nutrizione è entrata in contesto sportivo di recente che probabilmente sta sistemando alcune cose ma non è riuscita a farlo totalmente. Quindi spero, mi auguro che le casistiche siano in riduzione ma posso confermarti che ci sono, ci sono nel World Tour, ci sono ad ogni livello dal ciclista amatore che ha appunto il ciclista professionista nel World Tour. Sì, sì, sì. Sicuramente è una figura come la tua aiuta a far capire determinate cose e può ridurre il rischio insomma di entrare in tunnel dai quali è anche difficile uscire. Io confido di sì, credo di sì, da un lato per come come hai anticipato tu perché si può spiegare anche il razionale di alcune indicazioni e quindi è un'indicazione non è un'imposizione non è un fai così ma ti consiglio di fare questo perché e quindi l'approccio è totalmente diverso quindi magari accettato in maniera diciamo così anche più positiva dall'atleta e perché magari una figura come la mia può anche cogliere con un certo anticipo dei segnali d'allarme condividerli col medico condividerli con lo psicologo che spesso adesso è un'altra figura presente quindi magari intervenire tempestivamente prima sì ma adesso che tu appunto hai un contatto diretto con i ragazzi anche rispetto a 5-6 anni fa adesso li vedi più consapevoli anche i giovani che arrivano adesso sono più consapevoli o rispetto al passato sì totalmente la mentalità sta proprio cambiando ecco quando ho iniziato io 10 anni fa ricordo che la richiesta principale era tu dimmi quello che devo fare e io lo faccio e che magari io essendo io anche abbastanza diciamo così insomma mi piace spiegare la motivazione io non sono di mio anche coi miei figli non è che cioè in positiva e basta così si fa così è cercavo anche di adurre argomentazioni eccetera ma non non interessava nulla no tu devi solo dirmi cosa devo mangiare quanto devo mangiare così si fa e era appunto la scuola io ricordo in Yam quando lavoravo con sai Chavanel Pinot quella generazione lì no tu dici guarda io mi fido vai dimmi adesso è ben diverso per fortuna per fortuna ti chiedono fanno domande magari loro sì mi chiedono ma perché ma non per metterti in discussione a parte che è sempre buono secondo me comunque avere uno spirito critico e pesare un po' la persona no insomma è giusto anche guadagnarsela secondo me la fiducia del corridore ma proprio perché hanno questa tendenza che io credo anche comunque il contesto educativo anche scolastico no più più attuale più moderno ti insegnino ad avere un po' questo spirito un po' più critico da un lato quindi è legato proprio secondo me un aspetto generazionale dall'altro io da quando sono entrata in un contesto australiano mi si è veramente aperto un mondo in tal senso perché l'Australia ha veramente fatto la storia della nutrizione sportiva quindi loro sono proprio abituati fin da piccolini a correlare allenamento e nutrizione da un lato e hanno un approccio molto più scientifico rispetto a noi diciamo così europei in particolar modo sono sempre stati un po' più avanti loro anche se pensiamo al settore pista una volta erano loro a dominare perché erano avanti anni luce per tanti motivi esatto per tanti aspetti esatto e hanno proprio un approccio molto più scientifico più rigoroso quindi se tu hai un corridore australiano proprio non è della mia natura ma magari gli dico comunque fai così e lui dice no aspetta devo capire perché è utilissimo questo perché diciamo protegge anche l'atleta nei confronti di suggerimenti indicazioni sbagliate sì è un modo impara l'atleta ma impari anche tu avendo un confronto continuo con con loro no? ah io sì io sono dieci anni secondo me che sono all'università del ciclismo io quello che ho imparato che sto imparando dai corridori è veramente impagabile sì 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 ecco appunto tu hai parlato di australia no? non è che ti interfacci solo con atleti italiani perché le squadre di ciclismo sono formate da atleti provenienti da tutte le parti del mondo la nutrizione è uguale per tutti io mi ricordo per esempio quando andavo a correre con in Olanda in Belgio vedevo le olandesi e le atlete belghe che mangiavano cose completamente diverse da noi italiani loro mangiavano i peperoni prima di una gara io dicevo se mangio i peperoni muoio dopo un chilometro no? facevano piatti immensi dove dentro mettevano di tutto mentre noi avevamo la pastina in bianco attenzione a questo a quello adesso che le cose sono cambiate che sono tutti più consapevoli come gestite questa cosa che insomma i ragazzi arrivano da parti diverse del mondo con abitudini anche alimentari diverse ecco sì è una diciamo un aspetto in più da considerare e su questo ci vengono in aiuto i cuochi quindi appunto nel dipartimento nutrizionale della nostra squadra abbiamo quattro super cuochi e grazie a loro appunto la teoria che è più diciamo così univoca può essere tradotta in una pratica un po' più più colorata più diversa più versatile no? perché la teoria è uguale per tutti diciamo i carboidrati le proteine i grassi sono sempre quelli più freddi se vuoi no? invece grazie a questa anche questa nuova figura perché è una figura recente del cuoco i kitchen track tutte queste cose qui mamma mia abbiamo di tutto cioè io mi ritengo molto molto fortunata poi nel contesto appunto dove sono in squadra da me si pone tantissima voi però dello staff non ne approfittate è vero? di solito voi dovete mangiare le cose che vengono date dall'hotel allora anche qui sono molto fortunata perché in teoria noi nutrizionisti possiamo fare gli assaggi quindi in certe situazioni particolarmente disperate per lo staff no scherzi a parte io posso comunque assaggiare però in realtà gli avanzi li mangiamo e anche ben volentieri perché i corridori mangiano sempre prima tipo a cena mangiano prima i corridori e poi lo staff quindi lo staff si gode anche se sono freddi sono buonissimi gli avanzi del buffet dei corridori sì quindi ecco è una figura che ci aiuta molto e anche diciamo ci sono più modi io dico sempre ci sono più modi per far bene le cose per raggiungere un obiettivo poi quindi in base al gruppo di corridori che io ho in gara modulo il menù quindi non lo so se ho magari più ragazzi non so sloveni croati loro amano per esempio le zuppe e allora le metti più frequentemente hai non lo so corridori spagnoli e allora magari gli metti o baschi gli metti il dolce tipico basco diventa matto il cuoco no ma abbiamo abbiamo un libretto tutto standardizzato anche lì abbiamo perché anche lì io ti ho nominato i dolci però non sono dolci cioè deve essere tutto standardizzato nel senso che per porzione bene o male devo avere quei grammi di carboidrati là quindi il cuoco che sì ogni tanto diventa matto deve tagliare il dolce in un certo numero di fette cioè tipo la torta di mele si taglia in X numero di fette il tiramisù si taglia in un numero diverso di fette perché se no qualcuno se ne potrebbe approfittare e va a finire che vai a casa dal giro che sei due chili in più piuttosto che cosa già successa ecco sì sì esatto si tende un po' appunto sì adattare il menù in base anche alle preferenze dei corridori specifici diciamo che si hanno lì in gara però insomma bisogna mettere sempre un po' dei paletti insomma li viziate poi povere mogli quando tornano a casa questi corridori che pensano di avere la fettina così la minestrina cos'ha perché mi dicono eh ma in squadra ci trattano così e vogliono la stessa cosa quindi povere mogli poi li abituiamo troppo bene ho paura di sì eh devo dire che sì da noi veramente sì non manca nulla assolutamente ma diciamo che un po' tutte le squadre world tour adesso sono di questo livello perché il livello attualmente è talmente alto che non ti puoi permettere di stare un passo indietro la differenza si vede subito no no è una necessità proprio cioè devi stare almeno lì e poi anche un po' per la testa dei corridori no che tanto ci si guarda sempre si pensa che l'erba del vicino sia sempre la più verde quindi se uno vede che nell'altra squadra hanno una cosa in più subito vanno via di testa assoluta sì sì ce lo vengono anche a dire ma hai visto che loro perché sì 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 e alla fine è come avere un po' settant'un bambini a volte no però appunto anche lì si trova il compromesso oppure si dice adesso vediamo se riusciamo anche si valuta un po' la richiesta ma devo dire che appunto io ho avuto esperienze diverse in squadra e nella squadra attuale proprio c'è anche i corridori sono come dire noi li cocoliamo però non sono assolutamente diciamo passami il termine viziati sono assolutamente le loro richieste sono ragionevoli oppure magari te lo chiedono un po' in anticipo Laura la sera del giorno di riposo si potrebbe riavere gli gnocchi con ragù e la cosa gli dici gli dici no gli dici va bene ma proprio magari vengono anche tutti insieme no abbiamo una cosa da chiederti sono giovanissima tra l'altro quindi sono tutti ragazzi ormai di vent'anni ventuno ventidue sì 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 assolutamente ma lo chiedono nei giusti tempi nei giusti modi e quindi noi ovviamente ci prodighiamo per accontentarli se si può sì Laura hai già parlato tante volte di carboidrati parliamo di questo i carboidrati una volta sempre per fare un po' il paragone con quel che era il ciclismo l'alimentazione di qualche anno fa i carboidrati sembravano quasi il diavolo dovevano essere quasi bannati dalle tavole anzi attenti non assumetene troppi perché vi gonfiate perché ingrassate adesso i carboidrati sono indispensabili sono l'energia sono la benzina del motore dei corridori esatto esatto e il carboidrato deve essere generalmente sempre presente poi più o meno prima o dopo quindi io gioco col carboidrato gioco sulle quantità gioco sulle tempistiche però non lo tolgo mai perché perché anche magari uno dei motivi per cui spesso si tende a togliere il carboidrato e generalmente aumentare le proteine perché comunque in qualche modo saziarsi insomma bisogna è fondamentalmente per perdere peso e aumentare massa muscolare per esempio però ci si dimentica spesso che se io vado a togliere i carboidrati che hanno una funzione energetica quindi sono proprio la mia benzina e li diciamo così compenso aumentando le proteine che hanno una funzione si dice plastica cioè sono i mattoncini che vanno a comporre i miei muscoli se io non ho i carboidrati il mio corpo prenderà parte di quelle proteine a scopo energetico quindi non ha senso togliere i carboidrati perché appunto vado a rovinare fondamentalmente parte delle proteine perché fungano ecco vanno a sostituire i carboidrati che non ci sono quindi è molto più diciamo utile modularli i carboidrati quindi li posso ridurre o li posso aumentare ma mai togliere perché comunque servono sempre a scopo energetico e come magari un altro esempio un atleta può togliere i carboidrati la sera prima di dormire è sbagliatissimo perché poi ho tutto il digiuno notturno che è il momento della giornata in cui appunto io non mangio per un tempo più prolungato e quindi sono a maggior rischio di catabolismo si dice quindi di utilizzare le proteine muscolari a scopo energetico e quindi è proprio la cena che un po' di carboidrati li deve contenere altrimenti sì mi sveglierò il giorno dopo probabilmente un po' più leggero ma non avrò sicuramente perso massa grassa Laura stai dicendo delle cose interessantissime perché appunto mi stai dicendo che i carboidrati la pasta ecco per dire il riso si può mangiare anche alla sera quando una volta era una cosa appunto che era vista come aiuto non si può fare ci sono poi dei casi estremi ecco dove non estremi ci sono dei periodi dove magari fate il famoso low carb ho sentito parlare tante volte di low carb sì quindi sì ci sono appunto dei contesti controllati quindi il medico della squadra è presente il preparatore è presente il nutrizionista è lì in cui appunto si implementano queste strategie appunto come low carb per esempio in cui volutamente si applica una riduzione in acuto dell'apporto di carboidrati quindi magari si possono togliere i carboidrati a colazione in bici a volte anche dopo oppure come dicevamo la sera quindi noi lo facciamo quindi sì per dare appunto degli stimoli metabolici per dare un po' degli scossoni diciamo all'organismo però sono tutte strategie che vanno pianificate con appunto i professionisti non cose campate lì per aria inventate dal corridore così mi sveglio la mattina oggi con i carboidrati assolutamente no e bisogna anche capire il contesto in cui ci si trova non so se è un ritiro per esempio a livello del mare è sicuramente diverso da un ritiro in altura perché già in altura ho comunque uno stress in più quindi devo darne meno io da fuori diciamo così quindi è tutto valutato e ponderato quindi lo si fa ma con molta attenzione no fai da te insomma no 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 a casa se qualche amatore ci sta ascoltando ecco no fai da te assolutamente assolutamente a casa no non fatelo e non fatelo da soli assolutamente ecco appunto perché i professionisti i ciclisti professionisti sono seguiti appunto da professionisti come te siamo lì a posta sì Mattei Moritz che conosci molto bene perché hai lavorato anche con lui in Baleina ha detto se io oggi mangiassi quello che mangiavo dieci anni fa durerei un'ora in gara verissimo è una dichiarazione forte verissimo secondo me questa dichiarazione cerco di interpretarla un po' conoscendo Mattei un po' il contesto del ciclismo deriva dal fatto che si va sempre più forte no e andando sempre più forte serve sempre più benzina e da un lato io ricordo all'università quindi 2009 mi insegnavano che proprio il massimo massimo apporto di carboidrati per ora in gara nel ciclismo era 80 se proprio 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 eri bravissimo avevi un atleta con una diciamo tolleranza intestinale fuori dal comune potevi arrivare a 90 adesso oggigiorno grazie anche a prodotti sempre più tecnici quindi barrette formulate in maniera particolare gel eccetera e anche prodotti che si mettono in borraccia si riesce ad arrivare fino a 140 grammi ora quasi il doppio quasi il doppio quasi il doppio quindi da 120 a 140 non è più il caso isolato l'eccezione ma è la regola e e quindi questo diciamo forse dà una chiave di lettura rispetto alla dichiarazione di Mattei se vai 80 grammi ora ormai 80 grammi ora è una tappa in cui è tranquilla in cui la fuga è andata tu stai dietro in gruppetto e prendi 80 grammi ora una volta era il fueling quindi la nutrizione in bici per una tappa di montagna di fatto adesso mangiano di più sono più magri ma facendo tutto così controllato si riduce anche il rischio che un atleta vada in crisi di fame si si può dire si assolutamente diciamo c'è un maggior controllo del rischio secondo me in generale ovviamente non è mai rischio zero però rischi meno che vada in crisi di fame rischi meno tu citavi anche la composizione corporea che è diversa sono generalmente corridori più magri rispetto a una volta quindi teoricamente sulla carta corrono più il rischio di ammalarsi perché quando si è più magri però c'è anche quel controllo lì perché magari si aumenta la supplementazione in determinati periodi quindi c'è una gestione del rischio secondo me più oculata grazie anche sia alle informazioni scientifiche ma anche al mondo della nutrizione sportiva non so se ti sia capitato di recente di entrare in qualche negozio di nutrizione sportiva ma c'è di tutto di tutto di più di tutto di più sì anche lì toccherebbe un attimo avere un'informazione all'infarinatura generale perché uno si perde perché veramente c'è talmente tanta roba che uno rischia anche di non capirci niente comprare roba a caso sì 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 bisogna un attimo orientarsi assolutamente perché c'è anche qui forse come l'eccesso di informazioni anche l'eccesso di offerta in realtà però è anche grazie a questa offerta qui che i vari corridori riescono a trovare la loro modalità per raggiungere elevatissimi grammi ora di carboidrati quindi magari io non lo so per esempio io faccio fatica a mangiare solido non so faccio un esempio rispetto a te e quindi magari io concentro di più la borraccia metto più carboidrati in borraccia perché so già che magari mangerò delle barrette in meno rispetto a te in cui che magari fai fatica a bere preferisci mangiare una barretta in più quindi si può giocare in base alla preferenza dell'atleta quindi anche la strategia nutrizionale anche lì è individuale ecco quindi fammi un esempio cosa c'è dentro al famoso sacchetto dei corridori la musetta la musetta anche lì abbiamo noi abbiamo protocolli per tutto allora lì dipende se fa caldo se fa freddo che tappa è eccetera che incide anche tutto questo anche la temperatura esterna ma anche le tipologie di gel banalmente ci sono dei gel che si definiscono per esempio isotonici perché non richiedono sai il classico sorso d'acqua insieme quindi magari quando fa non lo so è una tappa in cui prevediamo già in cui si farà fatica a bere perché magari è previsto brutto tempo piuttosto che una tappa una gara con pavé o classiche strade bianche in cui fatichi a togliere la mano dal manubrio insomma ecco anche la composizione delle musette è diversa quindi magari ci saranno pezzi barrette gel più grandi rispetto ad altre gare magari di modo che il corridore in un unico movimento assuma un gel più grande più ricco di energia sì le borracce saranno più concentrate così a parità di volume ho anche qui più carboidrati e quindi tornando alla musette generalmente noi ci mettiamo due borracce e un totale di 7-8 io dico pezzi fra barrette e gel questa è la base non esistono più i paninetti alla marmellata Philadelphia prosciutto queste cose qui basta no allora ci sono ci sono però siccome a me è piaciuto mantenerli in squadra perché insomma fan parte anche della storia del ciclismo adesso non è che possiamo tirare una riga perché si è visto che c'è qualcosina di meglio o di più tecnico più che altro non di migliore ma di più tecnico allora ci sono e quando magari noi abbiamo i massaggiatori baschi portano le tortine basche e quando abbiamo i massaggiatori italiani portano le crostatine insomma anche perché la testa ha il suo peso però non rientrano nel conteggio dei carboidrati è un in più è un in più i corridori è per la testa è per la testa uno vuole mangiare il rotolino con la crema di cacao e nocciole o il paninetto o il prosciutto Philadelphia va benissimo non è proibito assolutamente però essendo meno standardizzato è un in più è un in più quindi siccome in più va sempre bene non si toglie una barretta per mettere il rotolino la crostatina quello no lo facciamo con i rice cake sai i risettini perché lì abbiamo elaborato grazie all'aiuto dei massaggiatori un ricettario di modo da avere perché la problematica è la standardizzazione cioè io perché non non metto dentro il paninetto nel conteggio perché in un certo posto prendo il pane di un tipo in Francia ne prendo di un altro e quindi perdo il riferimento non so se ho 20 grammi 30 grammi 40 grammi mentre nei rice cake che i massaggiatori preparano proprio loro ok posso standardizzare l'apporto di carboidrati quindi noi abbiamo un ricettario un libricino con i vari gusti di rice cake e quindi i corridori ecco quelli sì sanno che per ogni pezzo ci sono 25 grammi di carboidrati che sostituiscono una barretta quello sì a proposito appunto di supplementi soprattutto di gel no? una volta mi ricordo se ne assumevi tre uno in più quattro la sera avevi mal di pancia adesso non c'è più questo problema perché appunto mi stai dicendo che ne usano tanti in gara sono cambiati anche da questo punto di vista sì assolutamente diciamo ci sono due aspetti da considerare in quello che tu mi hai detto l'idratazione e la qualità del gel nel senso che quando uno ha spesso si avevano un po' i brontoloni magari a volte insomma delle problematiche intestinali dopo l'assunzione di tanti gel come dici tu tre quattro eri già al limite essenzialmente potevano esserci due fattori in gioco in primis la qualità del gel quindi la tipologia di zuccheri che compone che compone quel gel lì quindi appunto la scelta della marca e la tipologia di gel è fondamentale ma anche l'idratazione perché se e questo vale in realtà per tutti gli sport per minimizzare il rischio di problematiche gastrointestinali un atleta deve bere tanto se un corridore un atleta fatica a bere durante può anche un po' prendersi avanti bere già di più dal giorno prima prima della gara eccetera perché spesso i gel danno mal di pancia perché sono molto concentrati e quindi se io ho già un'idratazione bassa per osmosi richiama il gel richiama acqua a livello intestinale perché è molto concentrato arriva nell'intestino che non è ben idratato e quindi richiama acqua con conseguenti brontoloni eccetera quindi le due regole diciamo principali per evitare brontoloni sono sono quelle di scegliere accuratamente la qualità del gel in particolar modo che ci sia una componente di fruttosio perché i gel di una volta come anche i drink di una volta che erano a base solo di maltodestrine erano solo diciamo a base di glucosio per ridurre la problematica intestinale adesso hanno aggiunto anche il fruttosio non so se hai fatto caso che ci sono anche i gel con il rapporto proprio 2 a 1 1 a 0 8 eccetera è proprio il rapporto fra glucosio e fruttosio quindi fondamentale che nel gel ci sia comunque una componente di fruttosio e quasi tutti i gel moderni ce l'hanno e curare tanto l'idratazione se io bevo a sufficienza e ho un gel di qualità è altamente improbabile che io possa avere problematiche gastrointestinali quindi di fatto sapendo che si possono assumere tanti gel ma voi ricordate che si può si deve anzi bere tanto oggigiorno se un corridore è attentissimo andare in crisi di fame e andare a essere disidratati arrivare a fine etapa disidratati è quasi impossibile bisogna proprio essere finiti che mi dimentico di bere perché sono talmente finito che non capisco più neanche da che parte sono girato sì però anche lì ti dirò ci sono i direttori sportivi che glielo ricordano perché ci sono i direttori stai pensando anche a tante cose quindi a volte ci si dimentica sì sì assolutamente poi ci sono anche lì ecco a proposito di reminder di promemoria si può inserire la strategia nutrizionale nel computerino che vibra ogni qualvolta tu devi prendere un gel una barretta te lo ricorda no? l'anno scorso ho visto proprio anche sulla pipa del manubrio di Matteo Van Der Poel no? sta foto era andata su tutti i social che a tot chilometro aveva borraccia più barretta tot chilometro barretta tot chilometro gel cioè era indicato tutto sì quel lavoro chi lo fa Laura? eh allora io stai anche a computer a fare la tabellina esatto da appunto da questo anno saremo in quattro caspita sì generalmente lavori anche la notte quindi non più adesso ci stiamo lavorando però sì appunto ce ne siamo sempre occupati noi del reparto nutrizione sì sì e poi appunto i meccanici o i direttori sportivi lo attaccano alla bici sì ascolta Laura in una tappa mediamente quante calorie si consumano? mannaggia ti faccio proprio una stima abbraccio dalle 5.000 alle 7.000 calorie più o meno adesso io vado un po' a memoria pensando ai grandi giri di quest'anno la tappa in cui proprio sono andati come si stuva dire in gergo a piedi magari 3.500 così e il tappone 7.000 a cui magari 7.000 a cui magari aggiungi i 2.000 di basale no? perché comunque il metabolismo basale è quell'energia che ti serve fondamentalmente per sopravvivere quindi battito cardiaco respirazione eccetera quindi generalmente il fabbisogno il totalone è formato da quanto consumano in bici più quanto consumano con questo metabolismo basale fuori dalla bici una persona normale quante ne consuma in una giornata 6 in totale forse a 2-3.000 sì ultime domande lavori anche con le donne che differenze ci sono? qui si apre un mondo ci sono tante differenze in maniera secondo me meravigliosa e complessa premettendo che sulle donne non c'è pochissima letteratura quindi si naviga a vista se io nel lavoro con l'uomo sono forte di studi libri trattati e che mi orientano con le donne non ho questo riferimento ecco io con le donne non ho riferimenti quindi la differenza in primis è che il mio lavoro è diverso perché deve essere proprio fortemente personalizzato perché non ho appunto una base generale teorica non c'è e l'applicazione della teoria sull'uomo alle donne è concettualmente sbagliata a mio modo di vedere quindi non posso trattare le donne come se fossero dei piccoli uomini quindi appunto è più un approccio empirico più di proviamo a vedere se va o se non va quindi e di conseguenza anche il rapporto con la donna deve essere a mio modo di vedere più costante più vicino perché appunto le mie indicazioni devono basarsi tantissimo sui suoi feedback quindi è un lavoro diverso di base a livello proprio relazionale magari fra dieci anni sarà diverso perché avrai già un'esperienza lo spero molto sì c'è sempre più interesse anche appunto nello sperimentare nel creare evidenza scientifica nel contesto femminile al momento ti dico c'è pochissimo in più di per sé la donna ha anche una sua ciclicità ha una sua ciclicità ormonale mentre l'uomo è fondamentalmente più statico più lineare quindi la donna spesso anche se parliamo di supplementazione in base alla fase per esempio del ciclo mestruale in cui si trova avrà una reazione diversa a determinati supplementi quindi c'è una complessità secondo me molto bella molto interessante in più che invece nell'uomo appunto il rapporto è più è più lineare forse anche un po' più più sicuro ecco io so che dopo questo stimolo ottengo questa reazione nella donna è tutto molto più dinamico sì altra domandona i chettoni si è parlato tanto di chettoni qualcuno qualche amatore anche qualcuno che non sa nulla di ciclismo di alimentazione quando sente parlare di questa cosa pensa che i corridori prendano chissà che cosa ci spieghi cosa sono i chettoni parole semplici sì allora ci provo allora abbiamo detto che i carboidrati sono rappresentano la prima la prima benzina no il primo carburante il secondo sono i grassi quindi io senza prendere i chettoni uso un po' di carboidrati e un po' di grassi quando sono in bici generalmente tanti carboidrati e pochi grassi quindi ho due carburanti i chettoni rappresentano un terzo carburante un terzo carburante che in natura non è mai presente quando una persona ha una dieta diciamo così equilibrata quindi è un po' un'integrazione che va un po' contro natura no? perché appunto il mio corpo fisiologicamente produce chettoni corpi chetonici quando io sto facendo magari una dieta particolare che si chiama appunto chetogenica dove tolgo i carboidrati oppure digiuno quindi quando io sono e il mio corpo non ha carboidrati inizia a produrre chettoni quindi se io prendo i chettoni dall'esterno crea una situazione in cui il mio corpo dice aspetta non mi capisco più perché questi qui i chettoni non dovrebbero esserci adesso perché ho anche i carboidrati allora cosa succede che il corpo dà priorità ai chettoni li usa e teoricamente però evidenza scientifica al momento ce n'è poca non c'è salva i carboidrati quindi ho un vantaggio nel diciamo così risparmiare i carboidrati a lunga durata nell'ultima ora che li ritrovi esattamente eccola l'ispiegata sì però è un'integrazione molto delicata molto delicata e a mio modo di vedere in tutta sincerità nel ciclismo moderno appunto quello descritto da Moritz non trova grande applicazione perché i chettoni danno energia lenta cioè se c'è il gerbo invece adesso bisogna essere da aprire il gas i chettoni essere pronti esatto cioè si rischia che prendendo i chettoni ti ritrovi imbastito esatto esatto esattamente bisogna saperli anche prendere in un determinato momento di gara o potrebbero essere controproducenti esattamente esattamente già da proprio questo quindi possono essere molto utili ma anche molto dannosi se li prendo nel momento sbagliato perché per quanto dura l'effetto il che è abbastanza soggettivo io appunto non riesco appunto ad aprire il gas come si suol dire Laura ultimissima domanda perché siamo in chiusura l'atleta con cui hai lavorato più pignolo in assoluto per quanto riguarda l'alimentazione un mannaggia ma pignolo in senso buono certo più curioso più curioso penso Ale De Marchi De Marchi sì 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 ci sono fatte tante chiacchierate Ale e beh e il pozzo pozzo vivo il Dema e il Pozzo sì sicuramente ho anche imparato tanto io da loro assolutamente perché proprio sono talmente precisi che mi dico ma sai che è uscito quel prodotto ma hai visto che i grammi a volte arrivano prima di te sì 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 che dico mannaggia non ho visto non sapevo grazie di avermelo detto sì 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 loro due sicuramente Laura è stato un piacere averti qui con me è stata una chiacchierata veramente interessante mi ha insegnato tante cose piacere mio e grazie grazie di tutto grazie a te grazie a te grazie a te